La terza sinceramente, per me il progetto è già finito perché quando abbiamo fatto le prove e abbiamo portato a casa il risultato artistico migliore possibile e immaginabile per questa terra io già sto pensando alla prossima edizione, il problema non è fare questo, il problema è cercare di fare meglio l'anno prossimo. Quanti amici ospiti ci saranno? Quest'anno sette ospiti ma in realtà nessuno di loro è più speciale degli altri perché abbiamo un'orchestra composta dai migliori elementi musicisti che io abbia mai incontrato nel mio cammino e vi posso garantire che ne ho incontrati veramente tanti e poi abbiamo un coro di giovanissimi ragazzi e ragazze abruzzesi, soprattutto donne. Un'altra cosa che mi inorgoglisce è avere un'orchestra all'80% composta da donne e stavo iniziando a ragionare sul fatto che l'anno prossimo vorrei coinvolgerne 100 vorrei coinvolgere 100, i più bravi cantanti abruzzesi e ne voglio arrivare a 100 perché dobbiamo mandare un messaggio proprio di una terra che si fonda sulla fatica, sul lavoro e sull'intelligenza della donna. Può esserci qualche novità dell'ultimo ora? Ma può essere che cambio qualcosa in scaletta, che cancello qualche pezzo e che qualche ospite sbaglia la pronuncia in abruzzese. Questo è probabile, però noi li perdoneremo, l'importante è il gesto. In questo senso, a parte il tv io bene, qualche anticipazione? Beh, canta una canzone spensierata che diventa musica leggerissima cioè musica leggerissima diventa canta una canzone spensierata e le onde gravitazionali diventano le onde di Stubbelmar ci sono un sacco di messaggi, per esempio parlavo della cura di Battiato tradurre la cura di Battiato è stato un momento di altissima filosofia ma allo stesso tempo di divertimento estremo con Elso Simone Serpentini e Gabriella Serafini abbiamo fatto un lavoro di traduzione dall'italiano al dialetto meraviglioso, inedito e quindi è stato molto emozionante comunque preparare questo spettacolo ripeto, quando io arrivo a questo momento per me il progetto è finito cioè il concerto è come dire, adesso andiamo a cena ma io ho cucinato per due settimane come faceva mio padre quando cucinava il cenone di Natale Come si pongono gli artisti rispetto al dialetto? Diciamo che c'è un oggettivo confine naturale segnato dal Po tutti quelli che sono nati oltre Po fanno un po' più fatica quelli che invece per esempio con la pesce di Martino che sono siciliani come l'anno scorso Giussi Ferreri non hanno problemi e si divertono anche a interpretare la nostra lingua ma considerando che mia madre è nata a Brescia li comprendo, li posso capire Un palco che guarda al mare quest'anno? Il palco che guarda al mare è una novità inedita, assoluta il palco tra l'altro forse è il più grande palco mai montato per una manifestazione del genere soprattutto il più grande palco mai montato in Abruzzo che arriva al mare le esigenze sono prettamente televisive quindi l'obiettivo non era quelle 10-15 mila persone che potevano venire questa sera, no questa sera, sabato sera al concerto ma le milioni di persone che ci guarderanno in televisione vorrei che avessero l'immagine più bella e più rappresentativa possibile di Pescara e quindi spostare questo palco significa un precedente tecnico per il comune di Pescara e per tutti i tecnici che ci hanno lavorato e che ringrazio perché hanno dovuto lavorare per mettere in pratica le nostre idee che sono idee sempre diverse da quelle del consueto ma questo dimostra che in questa città con un po' di lavoro si può fare l'impossibile grazie Grazie.